Senatore Sant'Angelo buongiorno, partiamo intanto dalla questione aeroporto di Birgi che è un tema di grande attualità soprattutto nel nostro territorio, lei come la vede? Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, naturalmente la situazione è una situazione non semplice e sicuramente preoccupante, l'annuncio dato dall'Italia di lasciare l'aeroporto di Trapani-Birgi con le due rotte per Roma e Milano sicuramente creano pochi problemi al nostro territorio. Stiamo cercando di far chiarezza su queste dinamiche che naturalmente non sono conosciuti a tutti, nel senso che stiamo cercando di comprendere quali sono i vincoli contrattuali che legavano all'Italia all'aeroporto di Trapani-Birgi e se all'Italia potesse così, in maniera unilaterale e senza previso lasciare l'aeroporto. Leggendo alcune note di stampa detta dal Presidente Ombra, non ci sarebbero vincoli contrattuali, nel senso che il bando che era stato aggiudicato nel 2016 non era stato mai firmato dall'Italia. Quindi questa cosa ci lascia molto perplessi, come è possibile che a distanza di così tanti anni non si sia preceduto a far firmare questo contratto. Allora bisogna un attimo capire che l'Italia ha ricevuto anche in questi anni dei contributi per effettuare questi voli. Nel caso contrario si può ridurre ad una scelta commerciale che dispiace e stiamo cercando a tutti i livelli di riuscire a capire se ci sono i presupposti per riuscire a questo dialogo. Una vicenda comunque che appare un po' strana, non è così? No, guardi, è strana per chi non è addentrato nelle cose, quindi come tutti quanti. Non dovrebbe essere strana per il Presidente Ombra, che farebbe bene a chiarire tutti i punti ed eventualmente tutte le parti di questo territorio che si hanno a cuore a questo territorio faranno in modo di creare quelle condizioni. Però prima di fare del complottismo sulla stranezza delle vicende, ripeto, accordi di questo tipo devono essere sanciti attraverso contratti ben precisi. Se non ci sono stati i contratti allora le dico è strano questo, perché come si può programmare la gestione di un aeroporto se lasciamo liberi i vettori di atterrare o meno su Travani? Dico, noi abbiamo subito qualche anno fa, ricordo a tutti, anche l'abbandonata parte di Rainer. Ora qui non si tratta né che Rainer è bella e all'Italia è bruza o viceversa, perché si creda che a tutti quanti gli abitanti del territorio interessino che arrivino gli aerei e portino i turisti in modo tale da poter far ripartire immediatamente l'economia in questo territorio. Quindi io, ripeto, sono arrabbiato come tutti quanti. Poi ricordiamoci anche che la proprietà di questo aeroporto è una proprietà regionale, al 99,9%, quindi il proprietario di questo aeroporto piuttosto che fare comunica di stampa, di guerra e fuoco nei confronti del governo, nei confronti del Premier Conte, io credo che sia opportuno cercare di ripanare questa matassa, di sbrogliarla e di capire una volta per tutte come si può programmare al meglio questo aeroporto e scendo fuori dagli steccati politici ed evitando di fare propaganda o accuse gratuite come sono state fatte, dico alcuni commenti, in questi giorni. Quello non serve a nessuno, non serve a me come parlamentare, non serve soprattutto ai cittadini. Quindi la mia vicinanza soprattutto è a tutti quanti gli operatori e le persone, dico al di là dei turisti, consideriamo che quell'aeroporto è molto utile ai residenti per spostarsi per motivi di lavoro, di salute, di studio, quindi è assolutamente qualcosa di cercare di riparare. Poi dico, tra le altre cose, spero di non sbagliarmi, ma credo che è stata fatta anche, è stato dato l'annuncio di una nuova tazza che andrà per Milano con un'altra compagnia. Quindi anche lì, dico, cerchiamo di vedere le cose in maniera seria, rigida, ma non, ecco, lanciamo segnali di allarmi quando poi ci sono altre soluzioni. Dico, se all'Italia poteva andare via ed è andata via, sono delle scelte da prendere in considerazione nella gestione anche dell'aeroporto. Quei rapporti li cura AirGest con i vettori, non li cura il Presidente del Consiglio, né il Senatore Sant'Angelo e né altri. Quindi, ripeto, rispetto a questo noi ci siamo, aspettiamo delle risposte, magari anche un tavolo tecnico, perché piuttosto che fare delle manifestazioni chiamando tutte le persone, puntando sul malcontento delle persone, probabilmente per risolvere questo problema bisognerebbe tutti gli attori cederse di un tavolo, mettere la documentazione a disposizione di tutti e cercare di comprendere come meglio venirne fuori il prima possibile. Dico, questo è il mio punto. Veniamo al secondo punto. Questo prestigioso incarico per il Senatore Sant'Angelo, la nomina facilitatore nazionale per quanto riguarda il rapporto interno del Movimento con gli enti locali. Prestigioso riconoscimento. Ecco, il suo ruolo in pratica in cosa conquisterà da oggi in poi? Guardi, dico, io non so se prestigioso, sicuramente è un compito molto gravoso. Ci tengo a dirlo, sostituisco l'euro parlamentare Ignazio Corrao, che ha svolto questo ruolo come mio predecessore nel migliore dei modi. Mi occuperò di coordinare l'esigenza delle amministrazioni che sono sotto il Movimento di Castella, cercando di portare queste istanze direttamente a livello parlamentare e governativo. Quindi un coordinamento vero, vero e proprio, non semplici, naturalmente visto il numero elevato di amministrazioni. Ecco, a proposito di amministrazioni, in tanti lamentano, come dire, una mancata di risorse economiche e da questo punto di vista il secondo cosa prevede? Allora, guardi, delle azioni sono state già fatte a favore dei comuni e altre saranno fatte con il decreto di lancio che è in discussione presso la Camera dei Deputati proprio in questi giorni. È chiaro che i comuni si troveranno in grossissime difficoltà e il governo ha ben presente questa cosa, quindi anche oltre le azioni, anche attraverso un dialogo costante con l'amministrazione, con l'Anci, che si adotteranno quelle misure che possano consentire a tutti i comuni di poter continuare a fornire i servizi essenziali, nel rispetto anche dei bilanci. In questi giorni, soprattutto i nostri comuni sulla costa si trovano davanti con la problematica di gestione della sicurezza delle spiagge per il Covid, anche quelle sono delle spese che si aggiungono come costi già agli segui bilanci dei comuni, quindi anche su questa cosa ritengo che il governo debba e che avrà la sensibilità di intervenire immediatamente cercando di venire incontro il più possibile in questo difficilissimo aumento storico a tutte le amministrazioni comunali. Benissimo, grazie a voi e buona giornata a tutti.